Ciao, lui è FlashWarrior300, è il vero FlashWarrior, un ex Ironman che ho preso adesso io in gestione e lo sto allenando. Come potete vedere si sta allenando, sta facendo le ripetute al sacco, è lui, ci stiamo preparando, presto saremo pronti. Forza, 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 più veloce, più veloce, dai, più veloce, più veloce, dai, 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 forza, forza, dai, vingi, dai.